Tre ragazzi di Maddalenini alla Ribalta. Oggi presentano il nuovo disco, uno dei dischi che appunto hanno preparato e sono gli X-Rateid che appunto da diversi anni sono insieme per divertire la gente ma anche per divertirsi loro. Vediamolo un po', conosciamo un po' le loro caratteristiche. Il tuo nome? Allora il mio nome è Francesco, quando canto Mastarasta sono l'MC del gruppo. Qual è il vostro intento? Quello di fare che cosa? Allora con questo disco che abbiamo fatto, Italian Style, l'ultimo disco, abbiamo deciso di esprimere quello che è un po' il nostro percorso quotidiano nella vita di tutti i giorni. Ci discostiamo un po' da quello che sono stati i precedenti lavori in quanto abbiamo deciso di unire un po' diversi stili musicali. Non ci siamo fermati solo al rap, il rap è magari solamente quando cantiamo, rappiamo. Però abbiamo unito questi due stili e abbiamo cercato di fare un po' qualcosa di diverso che in Italia non c'è. Magari nel resto del mondo e in Europa si suona, mentre in Italia ancora questo tipo di tipologia di musica non c'è. E appunto per questo abbiamo deciso di chiamare il disco Italian Style, appunto per poter... Perché è tipo un marchio, un qualcosa di nuovo, quindi qualcosa che deve essere osservato e ascoltato nello stesso tempo. Ecco, Madalenini però trasferiti a Milano. Il tuo nome che è tanto... Allora, io mi chiamo Fabrizio, il nome è quando faccio rap e il master. Noi siamo andati a Milano perché comunque abbiamo continuato i nostri studi o comunque le nostre carriere lavorative. Abbiamo deciso poi di continuare la nostra musica avendo iniziato nel 2002 l'X-Rated, che partivano come cinque componenti, adesso siamo in tre. Abbiamo continuato così, io studiando perché io organizzo e preparo tutta la musica, sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista dell'editing, del mixing, del disco. E tutti gli altri lavori che avete sentito fino adesso. Diciamo che mi sono trasferito a Milano assieme a loro, dove ho comunque potuto avere modo di studiare, approfondire dal punto di vista nozionistico tutto quello che riguarda l'audio. E quindi io ho avuto la possibilità, ho avuto la fortuna di poter gestire tutta la nostra musica da cima a fondo, dalla genesi fino all'arrivo delle vostre orecchie. Quindi viene tutto da noi, diciamo che... Ecco, in tre formati un gruppo direi abbastanza omogeneo. Sì, assolutamente, è omogeneo perché comunque in noi c'è un legame che si chiama amicizia. Siamo amici da tantissimi anni, siamo da più di dieci anni amici, siamo quasi dieci anni che abbiamo questo gruppo insieme. E quindi c'è amicizia come prima cosa che è la cosa più... è la benzina di questo motore. E con l'altro Madalenino, chiedo scusa se appunto... Il tuo nome è così? Il mio nome è Fabio, quando canto sono World 2. Tu canti? Sì, 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 sono cantante anch'io insieme a Franco. Ecco, quale musica hai eventualmente preparato per i giovani, ma anche i nonni? Allora, il nostro album, come già diceva comunque il Master Rasta, praticamente tocca un po' tanti aspetti in generale. Della vita quotidiana comunque di chiunque, affrontata però secondo le nostre esperienze che abbiamo vissuto comunque nella vita. Sia da quando eravamo più giovani, appunto come diceva lui, amici da più di dieci anni. Quindi abbiamo affrontato un bel percorso di vita insieme come amici. Quindi abbiamo affrontato varie vicissitudini quotidiani. Come in questo caso noi comunque lavoriamo, ognuno fa un suo lavoro. Nel frattempo, come prima andavamo a scuola, poi ci ritrovavamo per fare musica. Adesso ognuno lavora e poi comunque il nostro tempo libero ci mettiamo insieme per fare musica. E anche questo è sempre un motore che ci alimenta. E in tutto questo percorso comunque affrontiamo tantissime di quelle cose che poi noi cantiamo comunque nelle nostre canzoni che toccano da idee che possono essere magari di ragazzini più piccoli fino ad arrivare a idee un po' più chettino, diciamo mature, sotto un certo punto di vista perché aspetti magari di argomenti dove parlano magari anche di ricadere a volte nella vita, doversi ritirare su e quindi affrontarla con una certa spinta. E noi lo facciamo comunque facendo musica e questo ci dà tanta carica comunque. Parte tutto da un'energia nostra interna che cerchiamo di trasmettere agli altri. Che cosa vi ha spinto a trasferirsi a Milano, dalla Maddalena? Sicuramente le possibilità. Tutto qua. E a te che cosa ti ha spinto ad andare via dalla Maddalena per trasferirti a Milano? Le possibilità che non ci sono probabilmente, c'è nel senso magari anche un po' come prospettiva credo di un giovane nell'ambito delle ambizioni lavorative non è il massimo ma sicuramente per le nostre tipologie di ambizioni Maddalena purtroppo ci può solo supertare come sta già facendo per la risposta di questo disco che è stato comunque eccesso perché nelle prime tre settimane è comunque disco che è l'unico negozio che ha il nostro album. Faccio della pubblicità proprio spudorata, via Principa Medeo. Ha venuto nel giro di tre settimane più di 20 cd quindi vuol dire che è una media di due cd al giorno per come è la Maddalena penso che sia tanto. E questo è una grande cosa perché comunque venendo fuori da quello che è un discorso di musica indie, di movimento di musica indipendente e quindi con la difficoltà di poter essere supportati o essere spinti con investimenti dai mass media c'è la difficoltà di far arrivare a tante persone ma ripetiamo che la Maddalena comunque è stata, i Maddalenini soprattutto, vicini in tutto quello che noi abbiamo fatto in questi anni anche stando distanti e grazie anche al fenomeno di social network come Facebook che ci danno la possibilità di poter informare tutti quanti anche a distanza di chilometri appunto. Anche per te è stato facile oppure state inserirti a Milano? All'inizio come tutti abbiamo trovato magari all'inizio le prime difficoltà però il fatto di essere uniti ormai da diversi anni, fare musica insieme, ci conosciamo ci siamo dati una mano l'uno con l'altro e quindi è stato tutto facile il proseguo del nostro cammino musicale. Il primo periodo manca un po' sempre lo scoglio, tutti i Maddalenini che hanno avuto modo di uscire penso che in un modo o nell'altro sanno cosa vuol dire la mancazza proprio dell'aria, dell'atmosfera e anche delle persone perché tutto sommato è proprio quello discorso, tutta quest'area familiare fuori ti manca e ti rendi conto di essere un numero, cosa che qui invece non sarei mai perché tutti sappiamo chi siamo e quindi... Ecco, sento che siete ferrati per quanto riguarda appunto il vostro mestiere quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci mettiamo tanta serietà, impegno, sappiamo che c'è tanto da imparare in questo discorso e nel campo musicale ma noi siamo qua, ci sproniamo ogni giorno cerchiamo sempre di trovare la strada migliore per poter fare musica e poter essere ascoltati un po' dappertutto. Per te? Per me, se siamo seri adesso io non oso pensare fra qualche anno allora, cioè nel senso non ci fermeremo qui, andremo sempre più avanti e come qualche di un altro è riuscito a arrivare, riusciranno a arrivare secondo me sempre tutti, tutti hanno la possibilità di farlo. Basta crederci, basta fare le cose in una certa maniera e soprattutto la nostra spinta sarà sempre quella di stare in mezzo alla gente, fra la gente perché quella è la gente che ci sorregge e ci sostiene. Anche per te così? Sì, senz'altro. Solo questo? Sì, no, è vero perché comunque anche ritornare qui sempre nell'isola dove comunque sei partito e ritrovare comunque questo riscontro che uno magari si può aspettare, si può immaginare, può dire non lo so, chi lo sa. Vedere che comunque c'è una risposta dalla parte comunque delle persone che vivono qui, che ci ascoltano a distanza, comunque in qualche modo riescono anche ad avere un contatto con noi e quindi aspettarsi che quando anche ritorniamo qui riusciamo a proporre qualcosa di nuovo è bello, è bello.